Sant'Arsenio è il via ai lavori sulla palestra di via Florenzano. Il sindaco Pica, presto, tornerà ad essere presidio di socialità. Tufariello, emergenza furti, ieri consiglio comunale congiunto tra Oletta, Buccino e Salvitelle, chiesto il rafforzamento del pattugliamento. Sapri, truffa del pacco postale, colto in flagranza, giovane incensurato napoletano. Sala Consilina, un anno di Iocentro, il bilancio delle attività dell'associazione. Calcio, il punto dopo la seconda giornata del campionato di prima categoria. Buongiorno e bentrovati al nostro telegiornale. Apriamo con Sant'Arsenio al via ai lavori nella palestra di via Florenzano, chiusa alcuni mesi fa perché ritenuta pericolosa. Un passo avanti importante per restituire un presidio di grande valore sociale alla comunità grazie all'appalto dei lavori per un importo di 750 mila euro con consegna entro un anno che prevede l'abbattimento della struttura e la ricostruzione ex novo. Soddisfatto, molto soddisfatto, il sindaco Donato Pica. Ascoltiamo. La palestra comunale di Sant'Arsenio, ressenagibile e chiusa alla fruibilità dei cittadini, a breve sarà restituita alla comunità completamente rinnovata, riammodernata e sicura. Ad annunciarlo il sindaco di Sant'Arsenio Donato Pica che nel sottolineare come si tratti di un appalto ripreso e completato dalla sua amministrazione, andando a definire la parte tecnica e amministrativa con la regione Campania, finalizzata anche al recupero di risorse preesistenti, spiega anche come i lavori potrebbero essere conclusi in breve tempo, andando così a restituire alla comunità un importante presidio sociale. La ditta giudicataria, che ha già dato inizio ai lavori con la predisposizione del cantiere, ha infatti assicurato la consegna dei lavori entro 300 giorni, ben prima del termine previsto invece dall'amministrazione comunale. Dovrebbe essere un percorso molto veloce perché tra le migliorie offerte dall'impresa giudicataria vi è anche la riduzione dei tempi di consegna, parliamo di circa 300 giorni, quindi meno di un anno per un impianto che innanzitutto risponderà a tutti i requisiti e le normative di leggi in materia di sicurezza antisismica, antinfortunistica, eccetera. E poi è previsto anche nel piano comunale di protezione civile, anche come luogo di collocazione dei cittadini nel caso malagurato di calamità naturali. Grande attenzione quindi alle attività sportive per l'amministrazione comunale santarsenese, che sta lavorando su più fronti per offrire ampio spazio alle diverse pratiche sportive e per consentire a tutti di poter accedere ai servizi. La scuola media avrà il suo impianto autonomo all'interno dell'istituto. La palestra nuova, polivalente, incontrata difesa, servirà per manifestazioni di più ampio respiro. Vi sono altri lavori residuali che stiamo completando per quanto riguarda l'impianto elettrico, quell'impianto di riscaldamento e di infissi. Anche in questo caso oramai tante chiacchiere e tante discussioni possono essere sicuramente accantonate. Però, ripeto, la palestra di via Florenzano sarà davvero la palestra del popolo, dei cittadini, dei giovani e delle associazioni che potranno liberamente espletare in maniera sana lo sport e quindi favorire quella socializzazione alla quale noi teniamo molto. Ieri consiglio comunale congiunto a Tufariello tra l'amministrazione di Buccino, quella di Auletta e Salvitelle per dare un segnale forte data l'emergenza furti al termine dell'incontro. Il documento congiunto con specifiche richieste. Vediamo i particolari nel prossimo servizio. Nella chiesa della frazione Tufariello di Buccino, ieri sera, si è svolto il consiglio comunale congiunto delle amministrazioni di Buccino, Auletta e Salvitelle con tema l'emergenza furti. Alla presenza di numerosi cittadini, gli amministratori hanno illustrato l'esito dell'incontro in prefettura ma soprattutto il discurso del fenomeno dei furti che, come sottolineato dal sindaco di Salvitelle, Raffaele Manzella, sono negativi perché c'è gente che vive con poche centinaia di euro di pensione e il furto di una motosega taglia a erbo e 50 litri di olio rappresenta una grande perdita. Dopo il sindaco di Salvitelle, è stata la volta del capogruppo di opposizione in consiglio comunale a Buccino, Francesco Fernicola, che ha lanciato una serie di proposte che farebbero più da deterrenti per i malviventi, sottolineando come in questo momento di paura c'è anche un risvolto economico poco felice legato alla vendita dell'olio a prezzi inferiori rispetto al mercato. Segue poi l'intervento del sindaco di Auletta, Pietro Pessolano, che pur sottolineando la fiducia nell'operato delle forze dell'ordine, che sotto organico fanno un grande sforzo per garantire la sicurezza, dall'altro lato ha confidato di non aver fiducia nella prefettura, in quanto lascia da soli i sindaci a risolvere i problemi. Per Pessolano il consiglio comunale congiunto è un momento di vicinanza ai cittadini colpiti dai furti. Più organico l'intervento del sindaco di Buccino, Nicola Parisi, che ha sottolineato il diritto alla sicurezza da garantire a tutti, lanciando l'ipotesi dell'Unione della Polizia Municipale dei Comuni e di avere per i 16 comuni della comunità montana Tanagra Alto Mediosere una compagnia di carabinieri. Sono poi seguiti gli interventi del capogruppo di minoranza di Auletta, Carmine Cocozza, che ha ribadito «I ladri ci impoveriscono non solo dei nostri beni, ma soprattutto della tranquillità» e ha lanciato l'ipotesi di indagare su dove va a finire l'olio rubato, vista l'enorme quantità rubata. Poi, in conclusione, il consigliere Onofrio Cocozza ha lanciato l'ipotesi che i comuni vengano presidiati dall'esercito a garanzia di sicurezza. Il Consiglio Comunale si è chiuso con un documento congiunto delle tre amministrazioni in cui chiedono, almeno in questa prima fase, un rafforzamento del pattugliamento di notte e l'incremento delle risorse umane per dare un segnale concreto. E ascoltiamo ora le interviste realizzate a margine dell'incontro tra i sindaci di Salvitelle, Buccino e Auletta. «Siamo stati presenti a una convocazione, a un tavolo tecnico, proprio convocato dal prefetto. Si è cercato di trovare quelli che potrebbero essere, diciamo, per lo più i deterrenti per prevenire queste cose, tipo l'installazione di impianti di videosorveglianza, tipo l'impegno da parte del prefetto di potenziare un po' la presenza delle forze dell'ordine, il quale, ahimè, diciamo, nonostante tutti gli sforzi dei comandanti delle caserme dei Carabinieri, di Caggiano, Auletta e Salvitelle, diciamo, essendo un vasto territorio, non è che poi così facile per loro essere presenti contemporaneamente in tanti luoghi». «Sicuramente questa sera non è che siamo qua per risolvere il problema, ma maggiormente, particolarmente, la cosa importante per esprimere la nostra vicinanza alla nostra contata Tufariello che ultimamente è colpita più delle altre zone da questi furti. E quindi questa è la cosa importante per dire che noi siamo qua, che i sindaci che lavorano insieme, lavorano insieme e lavorano per l'intero territorio e quindi siamo vicini alla comunità di Tufariello». «Abbiamo chiesto ed ottenuto però un maggior pattugliamento di notte, sicuramente saranno incrementate in termini di risorse umane le caserme dei Carabinieri, tuttavia pur raggiungendo questi risultati che si dovranno vedere da qui a qualche settimana il problema resta, il problema resta è quello di presidiare il territorio e il presidio del territorio avviene, a mio modesto avviso, così come dicevamo peraltro un attimo fa, con maggiori risorse umane sul territorio, cioè maggiori Carabinieri, maggiore Polizia, maggiore Guardia di Finanza e perché no anche i Carabinieri forestali, in modo da dare tranquillità alla gente, alla comunità, alle rispettive popolazioni, perché non è un problema riconducibile solo ed esclusivamente a Buccino. Io mi permetto di aggiungere e finisco che questa è una problematica di carattere nazionale e che in qualche modo l'attuale governo dovrebbe mettere nella sua agenda». Atti vandalici a Pantano di Teggiano, dove nella notte sono stati danneggiati giochi per bambini posizionati nei pressi della chiesa di San Giuseppe, atti di vandalismo nei confronti dei più piccoli, altalene arrotolate sulla parte alta della struttura, lo scivolo a forma di giraffa danneggiato e reso poco stabile, a cui si aggiunge la distruzione di alcune sedie che poi sono state lanciate sul tetto dell'edificio adiacente al parco giochi. Rabbia e indignazione tra i cittadini per quanto accaduto, per il danno che è stato prima di tutto una mancanza di rispetto verso i più piccoli e il loro diritto al gioco e al divertimento, rivelandosi anche un pessimo esempio per le future generazioni. Questa mattina, spiega il consigliere comunale Cono Morello, i genitori nell'accompagnare i bimbi all'asilo hanno dovuto fare i conti con lo scempio provocato nella notte da imbecilli che invece di dormire distruggono i giochini dei bambini. Pantano non è questa, sottolinea Morello, siamo indignati, bisognerebbe intervenire da un punto di vista sociale anche tramite il piano di zona. Ultimamente l'associazione Pantano Nova aveva ripristinato i giochini usurati dal tempo e dall'incuria. Come amministrazione abbiamo fatto intervenire i vigili urbani per i rilievi e procederemo all'acquisizione delle immagini delle telecamere della chiesa. Andiamo avanti. Un giovane incensurato napoletano è stato denunciato per tentata truffa in corso dai carabinieri della stazione di Sapri. Il giovane aveva messo in pratica la truffa del pacco postale ma invece del denaro i militari hanno trovato altro. Vediamo. Truffa sventata dai carabinieri i carabinieri della compagnia di Sapri nella giornata di ieri i militari hanno arrestato in fragranza di reato un giovane incensurato del napoletano che aveva tentato la truffa del pacco ai danni di una cinquantennine del posto. La fortuna infatti ha voluto che a rispondere al telephoto non fosse l'anziana titolare del numero ma la figlia che ha capito che qualcosa non andava e ha contattato i carabinieri. Il meccanismo messo in piedi dal soggetto è stato abbastanza semplice dopo aver individuato la vittima sull'elenco telefonico l'ha contattata più volte fino a farsi dare il numero di telefonino. Successivamente un complice l'ha contattata e presentandosi come suo nipote le ha chiesto di prelevarle la somma poiché di lì a poco a casa sarebbe arrivato un pacco ed era necessario pagare il corriere in contanti. Ma al telefono, come dicevamo, ha risposto la figlia dell'anziana signora che ha allestrato i carabinieri i quali l'hanno tranquillizzata e invitata a ricontattarli non appena qualcuno si facesse vivo. Detto fatto, nel pomeriggio quando il presunto contriere si è presentato alla porta dell'abitazione la donna ha allertato i carabinieri che giunti sul posto lo hanno colto sul fatto. All'interno del pacco c'era un chilo di riso il giovane è stato denunciato per truffa in concorso e sono in corso le indagini per scoprire chi si nasconde dietro l'organizzazione di questi raggiri. Numerose le denunce giunte in tutta la provincia con vittime soprattutto agli anziani. La raccomandazione in questi casi è sempre quella di recarsi in caserma qualora si dovesse cadere nella rete dei truffatori. La Guardia di Finanza di Eboli ha scoperto un'evasione fiscale per oltre 2 milioni di euro ad opera di tre soggetti di campagna. ha eseguito il sequestro preventivo di un fabbricato commerciale, quote societarie, autoveicoli e disponibilità finanziarie per un valore complessivo di oltre 400 mila euro riconducibili a due importanti società di campagna operanti nel settore tessile e amministrate dalla stessa persona. Le indagini delle fiamme gialle hanno permesso di individuare guadagni sottratti a tassazione per oltre 11 milioni di euro e un'evasione di 2,1 milioni di euro. Andiamo avanti. A Domignano i carabinieri del nucleo operativo ecologico di Salerno hanno scoperto uno sversamento illecito di rifiuti speciali all'interno di un terreno. È stato denunciato il legale rappresentante di una locale impresedine che dovrà rispondere di attività di gestione di rifiuti non autorizzate. I militari hanno anche sequestrato l'appezzamento di 13 mila metri quadrati su cui erano stoccati circa 500 metri cubi di rifiuti speciali costituiti da rifiuti missi dell'attività di costruzione e demolizione. Cambiamo argomento. Come annunciato al momento dell'inaugurazione del nuovo servizio mensa scolastica dal primo cittadino di Sapi, Antonio Gentile, la Giunta Comunale ha approvato a stretto giro le nuove tariffe per accedere al servizio. Tariffe, come sottolineato ai nostri microfoni dal primo cittadino, sono state decise basandosi su alcune necessità prioritarie, garantire l'accesso al servizio anche alle fasce più deboli, assicurando tariffe agevolate e nel contempo assicurando anche la massima qualità del pasto che, come sottolineato dal sindaco Gentile, sarà sottoposto a costanti controlli. Gli uffici sono già attivi per consentire il rilascio del ticket pasto. Abbiamo raggiunto telefonicamente il sindaco di Sapi, Antonio Gentile, ascoltiamolo. Una volta chiusa la gara Nappalto e affidato il servizio, ovviamente abbiamo controllato l'economia e deciso di rimodulare la tariffazione del servizio mensa, il servizio domani individuali. Con l'occhio di riguardo maggiore ovviamente è stato dato ai redditi bassissimi, con una riduzione anche di un terzo rispetto all'anno precedente e alle famiglie con più utenti del servizio mensa, quindi con più bambini fino a tre bambini e una. Quindi è una riduzione che va dai 10 Euro fino ad un cumulo di 20 Euro al mese su quelle che erano le tariffe dell'anno scorso. Ovviamente sempre controllando la qualità, io la settimana scorsa appena è partito il servizio 2018-2019 sono andato a sorpresa verso un asilo per provare ad andare anche insieme ai bambini e continuerò a farlo anche durante tutto l'anno scolastico per controllare sempre che ci sia una elevata qualità degli alimenti che vengono somministrati ai bambini. Ovviamente le famiglie di questo sono abbastanza felici, molto felici per come viene servito, viene dato il servizio mensa e ovviamente andremo a vigilare posta per volta affinché sia sempre di altissimo livello. Dando un occhio di riguardo ovviamente anche alle casse familiari cercando di offrire un po' di risparmio e dare un po' di sollievo. Sempre la qualità dei passi, la qualità dei servizi anche e soprattutto per i bambini è sempre il primo punto. Ovviamente nel momento in cui si riescono a verificare delle economie le famiglie le verificeranno, però andiamo sempre a controllare la qualità. Nelle prossime giorni dovrebbe, riusciremo a partire anche con il servizio di scuola bus che ancora non è partito, anche perché fortunatamente le condizioni meteoclimatiche ci hanno dato una mano, però per la prossima settimana dovremo partire anche con quest'altro servizio. Andando sempre poi a dare quell'occhio di attenzione a chi ha minore possibilità. La scuola, il diritto di istruzione, l'integrazione, al poter condividere con i propri compagni, tra bambini è molto importante, quindi anche il pubblico deve cercare di agevolare l'integrazione di tutti, a cominciare dalle fasce più basse fino ad arrivare a quel piano. Sì, tutte le indicazioni, anche le richieste veramente le verifiche sono un po' più agevolate all'ufficio segreteria del Comune di Sapri che è aperto durante il più orario di 16 normali. È di qualche giorno fa la notizia della disponibilità della Banca a Montepruno a supportare concretamente il Comune di Sala Consilina nell'affrontare le spese necessarie alla ristrutturazione del carcere di Via Gioberti, della cui riapertura si discute oggi a Roma. Con una lettera aperta il presidente dell'Unione Giuristi Cattolici Italiani di Sala Consilina, l'Avvocato Angelo Paladino, ringrazia il direttore generale Michele Albanese per il fondamentale contributo alla causa comune e alle esigenze del territorio. L'Avvocato Paladino nella lettera sottolinea di essere testimone del fatto che uguale disponibilità la banca l'aveva già assicurata nel momento della paventata soppressione dello stesso carcere, poi malauratamente verificatasi nell'ottobre del 2015. Aveva infatti già allora accolto la proposta avanzata dall'Unione Salese di procedere alla ristrutturazione e ampliamento del fabbricato di Via Gioberti con fondi comunali, anche attraverso una pubblica sottoscrizione che consentisse di coprire la spesa preventivata da un progetto preliminare già redatto all'epoca. La strada, conclude l'Avvocato Paladino, non si ritenne da seguire con le conseguenze nefaste che tutti conosciamo. Andiamo avanti. Al Via lunedì i lavori sul ponte di Auletta, sulla strada statale 19 delle Calabrie. Il consigliere adesso ringrazia la ANAS e il Comitato Ponte Nuovo si dice soddisfatto, continueremo ad impegnarci. Dopo il parere del genio civile che mancava all'appello giunto al comune di Auletta nella giornata di venerdì e trasmesso ad ANAS, nella giornata di lunedì sono iniziati i lavori al ponte di Auletta al chilometro 47 della SS 19 delle Calabrie che nelle scorse settimane è stato al centro di polemiche di una serie di botte in risposta da parte di amministrazione e Comitato Ponte Nuovo. Ad annunciare l'avvio dei lavori il consigliere Antonio Adesso che via social ha dato la notizia e ringraziato l'ingegnere Muro, lo responsabile della SS 19 delle Calabrie, per aver ascoltato le nostre richieste sul ponte. Seppure è finita solo la fase progettuale ed autorizzativa, per me ha sottolineato il consigliere Adesso è già un esempio di concretezza perché prevenire preservando il ponte è un atto normale come invece non è stato la frana quasi cinque anni fa. Anche il Comitato Ponte Nuovo attraverso una nota stampa del presidente Cristiano Adesso ha espresso tutta la sua soddisfazione. Dopo il nostro intervento scrive tutti gli enti si sono attivati. Il comitato che da anni segue la vicenda è molto soddisfatto del traguardo raggiunto e prosegue la nota, ringraziamo l'intervento economico da parte dell'ANAS la quale ha finanziato i lavori. Inoltre non possiamo non ringraziare in maniera particolare il responsabile l'ingegnere Murolo che ultimamente ha seguito con impegno la vicenda e Daniele Campanelli dell'associazione Life che mostrò interesse già tre anni fa durante le prime richieste di intervento. Il Comitato Ponte Nuovo chiude la nota continuerà ad impegnarsi come fatto finora e a seguire l'andamento dei lavori di manutenzione fino a quando non saranno completati. Si baterà affinché il progetto di rifacimento del ponte venga infine inserito nel piano quinquennale delle opere da realizzare da parte dell'ANAS. Il 16 ottobre del 2014 l'amministrazione comunale di Sala Consilino organizzava un incontro pubblico dal titolo circoliamo studio per il riassetto e la regolamentazione del sistema di mobilità urbana. Circoliamo ufficialmente lo slogan delle iniziative che l'amministrazione ha scelto per identificare momenti di informazione e ascolto da mettere in campo. Ad oggi sottolinea il gruppo positivo di iniziative del genere non se ne sono viste molte soprattutto non vi è traccia dei progetti e delle intenzioni sbandierate durante l'incontro. Oggi nel giorno del quarto e certamente ultimo compleanno di circoliamo il gruppo positivo prende atto che le uniche azioni svolte dall'amministrazione riguardo alla viabilità sono l'ormai famosa sbarra dei giardinetti e la spesa di circa 100 mila euro per l'abbattimento di un rudere in via mezza capo che non risolverà i problemi di quell'arteria essendo a poche decine di metri da un restringimento. Questo dicono dal gruppo positivo di sala Consilina. Termina qui la prima parte del nostro telegiornale ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità. Bentornati in studio con ben due dei nove progetti presentati il liceo artistico Pomponioleto di Teggiano è presente da oggi fino al 19 ottobre alla Biennale di Venezia per la finalissima del concorso New Design 2018 promosso dal MIUR. I ragazzi del Pomponioleto sono gli unici della provincia di Salerno ad essere arrivati in finale oltre ad altri tre della città di Salerno. Anche il Vallo di Diano presenta la Biennale di Venezia dedicata agli studenti per la finalissima con le premiazioni del concorso New Design 2018 organizzato dal MIUR per promuovere e sostenere potenzialità progettuali sul tema il futuro sostenibile. Da questa mattina e fino al prossimo 19 ottobre gli studenti del liceo artistico Pomponioleto di Teggiano accompagnati dal professor Germano Torresi e dall'esperto esterno Teresa Rotella sono a Venezia per la finalissima della nona edizione del concorso che vede protagonisti licei artistici italiani con le opere realizzate dagli studenti del terzo, quarto e quinto anno. Il Pomponioleto è riuscito a distinguersi a livello nazionale consentendo così alla provincia di Salerno di ben figurare. Sono cinque infatti i totali progetti selezionati dalla giuria per partecipare alla finalissima del New Design 2018 di Salerno e provincia di cui tre provenienti dal liceo artistico di Salerno e ben due progetti dell'artistico di Teggiano. Un già grande risultato se si pensa che tra i numerosi progetti provenienti da tutta Italia soltanto 145 sono stati selezionati dalla giuria di esperti per partecipare alla mostra prototipi della Biennale di Venezia con le premiazioni in programma giovedì 18 ottobre nel corso del seminario di studio a conclusione del New Design 2018. Anche quest'anno, dichiara il dirigente scolastico Rocco Colombo, il nostro liceo artistico è stato selezionato con due progetti delle nuove proposte progettuali inviate al concorso. Ad essere stati selezionati sono un maison clochard realizzato da Michele Colitti e Gianluca Pietrafesa e l'uguaglianza è nei nostri cuori di Giovanni Salsano. I progetti preparati dai ragazzi, continua Colombo, spaziavano tra oggetti di arredo come mobili e sedie realizzati con materiali riciclabili, un progetto di giochi per il futuro per i bimbi della scuola materna, pannelli fotovoltaici con funzione di schermare le onde elettromagnetiche dell'antenna radiofonica, una panchina tecnologica che permette la ricarica dei telefonini, una cisterna per il recupero e riciclo dell'acqua potabile, zaino con funzione di depurare l'acqua e un innovativo attrezzo sportivo. Siamo davvero soddisfatti, conclude il dirigente scolastico del Pomponio Leto, per questa opportunità che proietta il nostro liceo artistico su un palcoscenico straordinario qual è la Biennale di Venezia. Ieri sera presso il locale Conte Ugovino in piazza Umberto I a Sala Consilina i membri dell'associazione Io Centro hanno presentato in conferenza stampa il bilancio del primo anno di attività dell'associazione, un anno intenso in cui il gruppo associativo è stato impegnato in diverse attività finalizzate al rilancio del commercio nel centro di Sala Consilina. Attività promozionali, eventi attrattivi per ravvivare l'attività del centro. Io Centro ha inoltre aderito anche a numerose iniziative sociali promosse e realizzate in collaborazione con altre associazioni locali. Una lunga serie di attività che sono state illustrate ieri da Simona Benbenka e dal presidente Gerardo Giordano. Vediamo. Con questo libro abbiamo cercato di far capire quello che non hanno riuscito a fare queste associazioni, dai vari accordi che ha chiuso con le banche, le partnership con persone del posto per aiutare a crescere nel sociale il nostro paese e nello stesso tempo giustamente per quello che nasce l'associazione, il commerciale, quindi con la nascita del web marketing, del progetto dei parcheggi. Giustamente a distanza di un anno era giusto anche che le persone che lavorano dietro a tutti questi progetti avessero la possibilità di avere la loro giusta visibilità, anche perché a breve verrà fatta la riunione per le reiscrizioni all'associazione e quindi era giusto anche rendere partecipi alle persone di quello che realmente è stato fatto con i loro soldi e con il loro tempo. L'associazione già sta avvenendo per collaborare sempre insieme all'amministrazione comunale per progettare il Natale 2018 a Sala Consilina e nello stesso tempo alcuni mesi fa l'associazione ha protocollato un'intesa con l'amministrazione per dar vita a un parco giochi nel centro del nostro paese che noi abbiamo chiamato la fabbrica del divertimento. Ovviamente l'amministrazione ha appoggiato questa idea e l'ha sposata in pieno e a breve esorgerà nel centro di questo paese una postazione con un parco giochi adibito ai bambini per dargli il tempo di divertirsi. Un anno abbastanza impegnativo dove abbiamo iniziato dalla cosa più semplice, quindi abbiamo ripreso l'idea del parcheggio con ticket parcheggi gratuiti, da qua siamo andati anche avanti con sito internet, e-commerce, abbiamo fatto una marea di cose, forse anche troppo. Abbiamo ripreso anche un progetto per la riapertura dei negozi, abbiamo ripreso un po' anche gli eventi, l'idea dell'evento iniziando con l'evento Due Ruote, abbiamo creato questo sito web, l'e-commerce, l'applicazione e soprattutto anche la cosiddetta raccolta punti che ormai tutte le persone sono sempre affezionate a questa idea della raccolta punti dove un cliente veniva nei negozi con l'acquisto minimo di 5 o di 3 euro a seconda dell'attività, così venivano dati questi punti. Poi nell'ottobre, l'8 ottobre con precisione abbiamo creato anche una sorta di fidelizzazione o meglio di aiuto con l'associazione Urchidea Solidarietà e Sviluppo. A novembre il Black Weekend dove nei negozi del centro c'erano i sconti dal 20 al 70%, giusto per intenderci il classico Black Friday che ormai il mondo ne è pieno. E poi siamo arrivati a Natale, a Natale l'abbiamo concentrato tutte le nostre idee, come sognavamo questo Natale e quindi abbiamo creato queste giornate dove il culmine della giornata è stata il 26 di dicembre quando abbiamo fatto la tombolata al Palazzingaro insieme ai ragazzi di Casa Surace e ora abbiamo iniziato a riprendere i progetti che i nostri clienti hanno sposato maggiormente, che sono piaciuti e quindi da là inizieremo a lavorare per dare sempre più aiuto, per dare sempre innovazione, per creare sempre eventi. Torna sabato prossimo 20 ottobre alle ore 17.30 con la sesta edizione la Kermess cinematografica dedicata ai giovani Corti a Sud Polla in Corto. L'evento quest'anno è realizzato con il supporto dell'associazione Montepruno Giovani che consegnerà un premio speciale. Vediamo. L'associazione Montepruno Giovani a fianco del consorzio Polla in Corto per la nuova edizione di Corti a Sud, la Kermess cinematografica che dà sei edizioni dà spazio ai giovani alla loro passione per il cinema, offrendo anche la possibilità di confrontarsi con importanti personalità del mondo cinematografico. Giovani e passione, due punti importanti su cui si fonda l'attività dell'associazione presieduta da Antonio Mastrandrea, evoluta dal direttore generale della Banca Montepruno Michele Albanese, proprio per individuare e supportare sogni e aspirazione dei ragazzi che vivono nei territori su cui opera l'istituto di credito. Corti a Sud, Polla in Corto parte proprio da questo presupposto, cioè dare la possibilità agli appassionati del cinema di potersi esprimere. Sabato prossimo, 20 ottobre, alle ore 17.30 presso il centro sociale Don Bosco di Polla, in programma quindi la sesta edizione della Kermess dedicata alle scuole che vedrà al suo fianco anche l'associazione Montepruno Giovani. Sarà, spiega il presidente Antonio Mastrandrea, un modo per mantenere alta l'attenzione e svegliare le coscienze partendo ancora una volta dai giovani. Il miglior corto, annuncia Mastrandrea, riceverà anche un premio speciale che l'associazione Montepruno Giovani destinerà alla scuola vincitrice per l'acquisto di materiale scolastico. Durante l'evento di sabato si terranno presso il centro Don Bosco proiezioni, intervisti, incontri e premiazioni con la consegna di riconoscimenti artistici alle opere audiovisive, ai registi, agli attori in erba, che con elevata professionalità sono stati capaci di trattare tematiche forti di stretta attualità, come bullismo, vessazioni e violenze, nelle più svariate sfaccettature e siano state capaci di risvegliare attraverso i loro lavori le coscienze. Sabato 20 ottobre, quindi, grazie alla perfetta organizzazione del direttore artistico del festival Gianluca De Lauso, il centro sociale Don Bosco di Polla si trasformerà nuovamente in fabbrica di giovani artisti cinematografici che potranno anche confrontarsi con esperti registi, attori e produttori. Sono 18 le cooperative sociali regolarmente accreditate presso gli uffici del piano sociale di zona S9 autorizzate ad espletare i servizi sul territorio del golfo di Policastro. Con l'istituzione dell'albo dei soggetti accreditati, l'ambito territoriale e sociale S9 ha spiegato la coordinatrice Gianfranca Di Luca, intende realizzare un sistema di erogazione dei servizi fondato sulla libera scelta dell'utente di acquisire prestazioni dai soggetti accreditati. Il nostro obiettivo è garantire all'utente la possibilità di scegliere autonomamente e allo stesso tempo una migliore qualità dei servizi offerti attraverso una qualificata e corretta concorrenza fra i fornitori. Le prestazioni lavorative saranno retribuite con i ticket sociali. Tanti servizi attualmente disponibili, assistenza socioassistenziale a persone anziane e disabili, servizi domiciliari, sociosanitarie a persone non autosufficienti, servizi di assistenza per alunni disabili e trasporto sociale. Passiamo ora allo sport. Tre squadre a punteggio pieno dopo due giornate del campionato di prima categoria Girone F, tra queste il Sassano che domenica scorsa ha vinto il match interno del San Giovanni. Dopo due giornate del campionato di prima categoria Girone F sono soltanto tre le formazioni a punteggio pieno e Ryan Sassano e Licinella. Le Ryan favorita per la vittoria finale del gruppo si impone 2-0 sulla polisportiva marina con le marcature di Barone e Vivona. Stesso punteggio con cui il Sassano si impone sul Cicerale. Ragazzi di patron Ricciardone si aggiudicano l'intera posta in palio grazie alla doppietta di Raffaele Ferrara. Di misura invece della vittoria della Licinella con Bruzzesi che decide il match contro il Real Postiglione. Si ferma invece l'altra grande favorita della manifestazione, il Velina che torna dalla trasferta sul campo del Real Bellizzi con una sconfitta. Nella settimana delle vittorie interne l'unica squadra che riesce a fare il colpo lontano dalle muramiche è il Golfo di Policastro che batte 3-1 il Rofrano. Primo punto in classifica per la Gregoriana che impone il pari al Real Agropoli mentre secondo pareggio per il Procolliano che fa 1-1 con l'Alfanese a domicilio. Infine a far compagnia al Cicerale alla polisportiva marina a zero punti in fondo alla classifica c'è il Real Palomonte sconfitto in trasferta 2-0 dall'Atletico Pisciotta. Termina qui il nostro telegiornale, vi ringrazio per la cortese attenzione e auguro a tutti voi un buon proseguimento di giornata.